Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Nella scorsa puntata avevamo cominciato a studiare gli atti umani e ci eravamo lasciati con una loro suddivisione. Oggi vediamo più in particolare il processo psicologico dell'atto, ovvero in che modo l'anima umana pone in essere un atto generico. Quando si analizza l'atto umano se ne scopre la grande complessità a causa dei numerosi elementi, conoscitivi e volitivi a un tempo, che lo condizionano e lo costituiscono. Ogni nostro atto è compiuto in modo così naturale che nemmeno ci accorgiamo di quello che stiamo per vedere e può apparire come una complicazione, ma è assolutamente utile per vedere come intelletto e volontà confluiscono in ogni atto della nostra vita. Allora vediamo insieme gli undici elementi del processo psicologico dell'atto libero. Preciso che nel sito di Radio Roma Libera sarà possibile consultare uno schema di quanto ci stiamo per dire. Relativamente al bene o al fine da perseguire, dapprima l'intelletto si pone l'idea di un bene amabile o, equivalentemente, di un fine desiderabile. Successivamente esso instaura un amore di compiacenza per questo bene o fine. A questo punto subentra la volontà che dapprima emette un giudizio che valuta la possibilità di conquistare questo bene o di raggiungere questo fine e pone quindi in essere una volontà efficace di tendere al conseguimento del fine. Relativamente invece ai mezzi da impiegare per il conseguimento di questo fine, l'intelletto dapprima compie una deliberazione che è istituita allo scopo di cercare i mezzi per raggiungere il fine voluto qui parliamo del consiglio e pone in essere un giudizio che si ferma sul mezzo più idoneo per conseguire il fine desiderato giudizio pratico. La volontà, d'altro canto, emette un consenso ai diversi mezzi proposti dall'intelligenza e infine sceglie il mezzo giudicato più idoneo e qui parliamo della elezione. Relativamente all'esecuzione dell'atto per l'ottenimento del fine, l'intelletto decide o comanda l'attuazione del mezzo e conseguentemente dell'atto e ciò viene chiamato imperio o precetto. Dopodiché, la volontà guidata dal comando emesso dall'intelletto pone in esercizio le facoltà d'esecuzione richieste. Essendo poi stato posto in essere l'atto dall'una o dall'altra delle facoltà da cui dipende, la volontà gode del possesso del bene desiderato e del conseguimento del fine. Cerchiamo di fare un esempio concreto e pratico che esemplifichi il processo di cui abbiamo parlato. Prendiamo ad esempio un atto comunissimo come quello dello studio. Innanzitutto serve un atto dell'intelletto che riconosca e desideri il fine dell'accrescimento della conoscenza, che è esattamente il fine per il quale si studia. Qui per semplicità escludiamo tutti quei fini secondari un po' meno nobili come per esempio prendere semplicemente un bel voto e vantarsene o per primeggiare rispetto agli altri. Dopo questi atti dell'intelletto che riconosce e desidera il fine, la volontà valuta se c'è effettivamente una possibilità o meno di raggiungerlo questo fine. Dato che all'impossibile nessuno è tenuto e potrebbero esserci diversi motivi per cui non è possibile studiare. Ad esempio perché si è persone semplici oppure perché le condizioni economiche non lo consentono o ancora perché c'è una situazione di guerra che non consente di andare a scuola. Una volta valutata questa possibilità la volontà si pone come obiettivo quello di tendere all'accrescimento della conoscenza. L'intelletto a questo punto valuta quali sono i mezzi più opportuni per ottenere questo obiettivo ad esempio andare a scuola rivolgersi a delle persone esperte di un determinato settore leggere dei libri, ecc. ed emette un giudizio su quello più idoneo. Mettiamo in questo caso che quello più idoneo sia il frequentare una scuola dal momento che, almeno in ipotesi, in essa si possono trovare sia dei docenti esperti di un certo settore sia i libri con le informazioni necessarie per accrescere la conoscenza. La volontà a questo punto acconsente all'utilizzo di tali mezzi e sceglie quello più idoneo. Nel nostro esempio la volontà sceglie di frequentare la scuola. Però questo ancora non basta perché l'intelletto deve emettere un comando di mettere in moto le facoltà che mi permettano di andare a scuola per esempio le facoltà motorie che mi permettano di alzarmi la mattina e spostarmi per dirigermi verso l'edificio scolastico ma anche le facoltà della memoria per ritenere quanto viene insegnato e la facoltà visiva-uditiva per leggere, ascoltare e quindi apprendere. Una volta ricevuto il comando dell'intelletto la volontà pone in esercizio la facoltà motoria, mnemonica, visiva, uditiva, ecc. Tutte queste facoltà convergono nell'atto dello studio che effettivamente consente allo studente di prendere possesso del fine desiderato ovvero l'accrescimento della conoscenza. Da ciò la volontà gode del possesso della conoscenza e ciò si manifesta attraverso l'appagamento che deriva dall'aver soddisfatto questo fine di ogni creatura razionale e dell'aver compiuto in definitiva il proprio dovere di studente. Ora, abbiamo visto che l'atto umano da una parte suppone la conoscenza del fine come tale e dall'altra la libera scelta delle determinazioni della volontà. Per conseguenza, ciò che sopprime o diminuisce l'una o l'altra delle due condizioni essenziali sopprime o diminuisce proporzionalmente la volontarietà dell'atto. In questo ordine di ostacoli, la prossima volta distingueremo quelli immediati, quali il timore, la passione, l'ignoranza e la violenza e quelli remoti, quali il temperamento e gli stati patologici. A questo punto ci diamo appuntamento per il prossimo martedì.